Il giardino botanico Caplez è situato in Emilia Romagna, nel Piacentino, nella sperduta ed affascinante località Cappelluzzo, sita a 730 metri di altitudine tra Tassara e Stadera, nella Valtidone. È agevolmente raggiungibile sia dal versante piacentino che da quello pavese. Il giardino botanico Caplez è adagiato armoniosamente tra le colline su di una superficie di circa due ettari. Ottimo connubio tra botanica ed estetica, senza tralasciare l'ecologia, ospita oltre 1800 specie e varietà vegetali. La mano sapiente dell'uomo fa sì che all'interno del giardino possano convivere sia essenze vegetali provenienti da tutto il mondo che piante endemiche, alpine e in via d'estinzione. L'ingresso del giardino è adiacente all'antica casa in pietra, tipica della campagna piacentina. Da qui si procede nella parte più pianeggiante della proprietà, che ospita le tre file del giardino botanico, composto da arbusti ed erbace perenni etichettate. Proseguendo nella visita, lo sguardo dell'ospite è attratto dalla quercia secolare, sul limitare della proprietà e della serra, nella quale si coltivano piante poco resistenti al freddo e si effettuano semine e propagazione. Continuando a salire, sul versante est, un bosco di latifoglie ci allieta nelle giornate più calde. Arrivati al punto più alto del giardino, lo sguardo spazia sui prati fino all'immensa vista della pianura padana. Nella parte nord del giardino, invece, un piccolo specchio d'acqua dona ospitalità a piante acquatiche, pesci rossi, rospi e piccoli animali acquatici. In tutto il giardino botanico, la presenza di moltissimi cespugli di spire e philadelphus, ci ricorda che qui vi sono le prime collezioni al mondo per numero di esemplari, dei suddetti meravigliosi arbusti. Durante tutta la visita, si possono inoltre osservare diversi tipi di piante, dalle bulbose primaverili, come narcisi, tulipani e muscari, a diversi esemplari di salvie, nonché molti arbusti da fiore, che non smettono di stupire nemmeno in autunno per la varietà del fogliame. Il giardino botanico Caplez permette quindi sia di conoscere piante botanicamente rilevanti, che apprezzare la pace e la tranquillità di questo luogo dove la natura ci accoglie con la sua musica. Acquistando casa e terreno negli anni Ottanta, l'avvocato Massimo Cantoni si è innamorato di questo angolo della Valtidone per la tranquillità e soprattutto per la biodiversità, che si celava dietro ad un luogo non molto urbanizzato. Qui elementi naturali ed antropologici si fondono con armonia e proprio questa peculiarità ha fatto nascere nella mente del fondatore l'idea di creare un giardino botanico, che potesse offrire al visitatore il giusto connubio tra ricerca botanica ed estetica, dando di fatto vita ad un ambiente di interesse scientifico imitando però in maniera egregia l'ambiente naturale circostante.